Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus l'oroscopo di venerdì 10 novembre Ariete, l'umore non sarà buono, per tutta la giornata e portare a termine i compiti quotidiani sarà faticoso avete tanta voglia di distrarvi Toro, il lavoro quotidiano vi peserà, avete voglia di evadere e fare qualcosa di diverso ma sarete soprafatti dagli impegni di lavoro e dai vostri doveri familiari Gemelli, quando siete in forma diventate un punto di riferimento per tutti anche oggi sarete allegri, simpatici, divertenti e stare con voi sarà veramente molto piacevole Cancro, la diplomazia sarà l'arma vincente in questa giornata in cui non vi sentirete in forma evitate gli scontri frontali e se necessario accettate un compromesso Leone, Venere in bilancia vi trasmette una carica extra di energia sotto questa bellissima luna cominciate a ritrovare la vostra forma migliore Vergine, siete molto sensibili alle richieste dei vostri amici e vi ritroverete a spendere molto del vostro tempo cercando di aiutare una persona in difficoltà Bilancia, riuscirete a ritagliarvi dei momenti da dedicare alle vostre passioni e rapporti sociali rompendo la solita routine ecco perché a fine giornata sarete soddisfatti Scorpione, non riuscite a stare fermi un solo momento credete fermamente alle vostre idee e fate di tutto per metterle in pratica arrivano ottime notizie sul lavoro Sagittario, sarete un fiume in piena grazie alla luna che vi rende allegri e loquaci non perderete occasione per farvi nuovi amici o tentare una nuova conquista Capricorno, in casa c'è davvero tanto da fare non riuscirete a trovare un momento da dedicare a voi stessi e al relax ecco perché in serata avrete solo voglia di riposare Acquario, oggi riuscirete a dimenticare per un attimo tutti i problemi che vi state portando dietro in quest'ultimo periodo sarete più rilassati e pronti a godervi la vita Pischi, questa è una giornata che vi permette di guadagnare molto se riuscirete a stare alla larga dalle persone che vi fanno perdere tempo dovete prendere decisioni che non potete rimandare e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus Grazie a tutti